buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv come sempre siamo pronti per dare un'occhiata ai giornali il resto del calino e il corriere adriatico per rilevare le notizie del giorno passiamo comunque sempre attraverso l'almanaco perché così ci mettiamo sotto la protezione di un santo poi vediamo anche le previsioni del tempo e quindi tutte le altre notizie vediamo che oggi si festeggia santa geltrude comensoli è una santa della valcamonica dove nacque nel 1847 fondò la congregazione delle suore sacramentine di bergamo fu una grande educatrice amò l'eucarestia in modo particolare e condusse una intensa vita interiore esercitando le opere di misericordia quindi un punto di riferimento esemplare per quanto riguarda una vita improntata a dio le previsioni del tempo le previsioni del tempo nulla di nuovo rispetto ai giorni scorsi cieli in prevalenza sereni lo vediamo nella grafica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata quindi ci sarà bel tempo su tutte le marche i venti saranno al mattino e al pomeriggio tesi e proveranno da sud ovest il mare è poco mosso le temperature si aggirano tra i 6 e i 15 gradi particolarmente alta la massima sembra che arrivino le prime avvisaglie primaverili insomma siamo non molto lontani dalla primavera manca un mese o poco più allora detto questo apriamo il giornale il resto del carlino e vediamo una notizia di cronaca purtroppo una notizia che non ci fa affatto piacere molestie arrestato un maestro di tennis ecco qua il titolo palpeggiava gli allievi minorenni la misura cautelare dei domiciliari è stata eseguita l'altro ieri dagli agenti del commissariato di fano quattro i ragazzini che lo accusano si tratta di un italiano di 37 anni di origini sudamericane che faceva che fa l'istruttore di tennis prima lo faceva pesaro da pesaro è stato allontanato è venuto a lavorare a fano e qui ha continuato con la sua inclinazione arresti domiciliari per un maestro di tennis che lavorava al circolo della trave di fano la polizia gli ha notificato l'altro ieri un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di presunte molestie sessuali nei confronti dei suoi giovanissimi allievi che variano da un'età da 10 ai 15 anni avrebbero avrebbe lui messo in atto dei palpeggiamenti durati diversi mesi ad essere molestati almeno tre o quattro di questi ragazzini finché un genitore ha capito quello che stava accadendo e quindi si è rivolto appunto agli agenti del commissariato ora sarà il jeep a fare luce su questa vicenda l'uomo sarà interrogato lunedì prossimo e dovrà fornire appunto le sue versioni per quanto è accaduto grande sconcerto ovviamente per tutti i suoi colleghi da parte di tutti i suoi colleghi del circolo tennis che costituisce un punto prezioso di avviamento allo sport ma anche di pratica dello sport nella nostra città il circolo tennis è un club che è inattivo da tantissimi anni e ha conquistato veramente risultati prestigiosi in tutta la sua storia quindi lo sconcerto certo è giustificato perché nulla lasciava presagire quanto è accaduto tutto era ammantato dal segreto vediamo anche come il Corriere Adriatico annuncia questa notizia eccola qua violenza sessuale sui minorenni arrestato un istruttore di tennis ordinanza del jeep dopo le indagini del commissariato la segnalazione del papà di un bambino secondo la polizia i ragazzini erano stati circuiti il circolo fanese mai nessun sospetto ha replicato ed ora continuiamo con le notizie in prima pagina parliamo del super bonus questo questo vantaggio che è stato revocato dal governo e vediamo come gli effetti si fanno sentire anche nel nostro territorio super bonus 100 imprese nel panico sono 100 imprese fanesi insomma che operano nel nostro territorio 100 imprese nel panico per il decreto del governo circa 2.000 lavoratori rischiano di rimanere a casa non si può bloccare tutto dalla sera alla mattina con un tratto di mattita hanno dichiarato gli imprenditori bonus edilizie super bonus a fano un comprensorio sono circa 100 le imprese del settore e dell'impiantistica pensate quanti settori sono collegati a quello dell'edilizia quando uno costruisce una casa ovviamente non fa solo delle murature ma poi ci sono gli impianti elettrici gli impianti idraulici i mobili insomma tutta una serie di collegamenti una serie di indotto che produce i suoi effetti su tantissime persone su tantissimi lavoratori sono migliaia appunto le persone interessate al settore in forma diretta sono circa 2.000 persone che sono a rischio di licenziamento più tutto l'indotto gli imprenditori sono poco propensi a raccontare le difficoltà personali purtroppo questo è un male che si estende un po' a tutto il settore a tutto il comparto e quindi il problema si fa veramente grave ancora le notizie il mio compito assomiglia al suo e gli insegnamenti li ricorderò parla così il sindaco di fano massimo seri dopo aver appreso delle dimissioni del vescovo di fano armando trasarti il primo cittadino ha scritto una lettera aperta ricordo alcune sue omelie ha dichiarato omelie pungenti scomode scomode che sono servite a noi tutti erano delle parole di stimolo rivolte dal presule nei confronti degli amministratori per alcune cose che non andavano ricordo in modo particolare il settore della sanità quando era in piena burrasca tra polemiche di ospedale unico di ospedali da salvare la posizione degli ospedali insomma veramente erano problemi di carattere comprensivo di tutti e poi anche gli interventi che il vescovo ha fatto nel settore della pesca difendendo tutti coloro che erano impegnati in questo comparto dove la fatica il lavoro e i rischi di impresa sono ancora molto presenti e dato che abbiamo parlato di marineria parliamo anche di porto perché questo articolo del resto del carlino lo evidenzia porto alberto caziole ricorre contro il fallimento ora si va in cassazione ma i giudici non bloccano l'iter del liquidatore il quale va avanti per stabilire i valori di tutte le attrezzature che sono in ambito portuale e poi quindi agire e bandire la gara d'asta per cedere appunto alla proprietà di questo invaso i periti stabiliranno il valore dunque porto turistico marina di cesare storia infinita dobbiamo veramente dirlo alberto caziole titolare delle concessioni non si arrende e ricorre contro la sentenza di fallimento i suoi avvocati hanno infatti presentato ricorso alla corte di cassazione ultimo grado di giudizio e l'ultima speranza per caziole l'estremo tentativo per cercare di bloccare una sentenza a lui sfavorevole e cercherà insomma di cambiare le carte in tavola ma questo però non fermerà l'iter e tutte le procedure avviate per mettere all'asta il porto turistico e vedremo dunque come andrà a finire un articolo che riguarda marta luggeri marta luggeri è stata nominata coordinatrice provinciale del movimento 5 stelle è stata nominata dal presidente giuseppe conte la sua nomine è stata annunciata proprio dal leader del movimento continuerò il mio impegno ha dichiarato marta luggeri a fianco del coordinatore regionale giorgio fede e dei colleghi appena nominati i coordinatori provinciali quelli delle altre province cercherò di rendere più efficace ed efficiente l'azione del movimento 5 stelle ancora aggiunto e radicarlo maggiormente al territorio sono certa che in questo compito avrò il sostegno di tutti i gruppi e ad oggi che ad oggi esprimono i consiglieri comunali i sindaci e tutte le altre cariche che sono ricoperte appunto da aderenti al movimento e qui vediamo invece una dichiarazione del presidente della provincia giuseppe paolini il quale replica al sindaco sebastianelli il sindaco di san costanzo fondi per strade frane nessun comune viene sfavorito lo ferma appunto il presidente replicando ad una dichiarazione del sindaco di san costanzo che aveva lanciato il sospetto che ci fossero figli e figli astri ovvero insomma lui si sentiva un po danneggiato come territorio rispetto ad altri comuni come se la provincia insomma non fosse presente così come lo era in altri siti appunto per la cura delle strade non è vero che la provincia non distribuisce le risorse sul territorio in maniera uniforme ha dichiarato paolini il mito il ministero a partire dal 2018 ha segnato fondi per la manutenzione straordinaria della viabilità che vengono distribuiti in maniera equilibrata dice paolini su tutto il territorio ci sono cinque la provincia è stata divisa in cinque territori quello che riguarda mondavio coglie al metauro monte felcino monte porzio cartoceto san costanzo mondolfo fanno fossombrone santi polito appartengono al territorio v4 fanno insomma questa è la denominazione di questo comparto ebbene questo comparto avrebbe ricevuto tanta attenzione quanto ne hanno ricevuto appunto gli altri gli altri quattro e quindi paolini e dice che insomma interviene in maniera equanime secondo comunque lente la provincia di via gramsci a pesaro occorreranno non meno di 100 milioni per tutto il territorio sappiamo quanto è stesa la rete stradale di tutto il territorio sono tantissimi chilometri 1150 sono stati calcolati quindi difficile ovviamente intervenire su tutto il terreno a urbino a urbino si farà il rally dell'adriatico la manifestazione sportiva festeggia ormai il suo trentesimo anniversario l'anno scorso ha tratto una grande quantità di turisti l'evento si svolgerà dal 19 al 21 maggio e proporrà un circuito in parte rinnovato in via di definizione lo si sta studiando proprio in questi giorni comunque sarà il cagliese il territorio di cagli centro delle sfide contro il cronometro per gli equipaggi in grada sarà una bella gara che attirerà tanti tanti turisti appassionati di auto ma anche quelli che non lo sono perché poi in una gara d'auto spettacolare come il rally attira sempre persone quindi tutto verrà al vantaggio della città ducale tiro al piattello negli emirati arabi enrico lugli ha sfiorato il podio l'atleta che rappresenta l'azienda urbinate benelli armi ha battuto persino atleti premiati agli europei e ai mondiali quindi un personaggio che è andato là in sordina ma che si è fatto valere si è fatto sentire per la sua bravura e dato che abbiamo parlato di sport possiamo leggere anche qualche notizia che riguarda appunto la pagina sportiva vediamo la visse la visse la beffa dopo il danno squalifiche e multe due giornate a gerardi uno a coppola e poi le sanzioni economiche ecco gli altri effetti della direzione del palermitano mucera un arbitro che è stato molto contestato dai tifosi e non bastava la punizione concessa interpretando fin troppo la lettera il regolamento è una direzione di gara alquanto discutibile afferma appunto il giornale il signore mucera di palermo che ha diretto visse pontedera tra i fischi di tutto lo stadio ha lasciato il segno anche dopo il referto e infatti in base a quanto comunicato il l'arbitro il direttore la commissione poi ha appunto dato tutte queste squalifiche quindi verrà danneggiata la squadra anche per quanto riguarda le partite successive a fondo pagina si parla del derby del metauro nel campionato di promozione una sfida attesissima tra san costanzo e marotta villa con fermignano fanno ferito e tifosi in fermento con la vastese un match caldo oggi si gioca un anticipo perché domani è il carnevale e quindi oggi alle 14 30 secondo anticipo di carnevale serve il riscatto dopo la sconfitta ottenuto con da roma capitale i panthers chiamano tutti in curva tutti in curva questo pomeriggio al mancini per appunto la partita fanno vastese valevole per la settima giornata del campionato di ritorno giriamo ancora pagina e vediamo la vl la vl sogna un'altra finale stasera se la gioca con brescia il basket attira sempre molti appassionati alle 20 e 45 la semifinale contro la leonessa il brescia appunto in diretta su canale 9 e invece purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia agli appassionati di volley perché la vigilar sbatte contro toffoli contro paolo toffoli appunto il giocatore fanese che allena l'avversaria della vigilar e che ieri appunto ha vinto la partita era il sandonà per 3 a 2 un tie break che appunto è stato sfortunato per i giocatori fanesi e altalena di emozioni dice il giornale a sandonà di piave ma il tie break premia i padroni di casa del tecnico fanese la vigilar sbatte contro toffoli è il terzo k.o. del campionato comunque la squadra fanese mantiene salda la posizione di testa della classifica e quindi questo infortunio verrà presto dimenticato almeno così si dice e si spera e ora diamo un'occhiata al corriere adriatico vediamo l'apertura l'apertura viene dedicata ad un sopralluogo che è stato compiuto l'altro giorno dai tecnici del ministero quindi della protezione civile a livello nazionale quelli della regione quelli del comune per verificare i danni che ha compiuto il terremoto la scossa del 9 novembre scorso sisma conto dei danni per 30 milioni ecco la verifica della protezione civile sopralluogo dei tecnici della commissione che valuta la richiesta dello stato di emergenza il comune di fano ha inviato un fascicolo una bella relazione al ministero anzi l'ha fatto alla regione poi la regione a sua volta lo ha fatto al ministero per ottenere lo stato di emergenza e ottenere dei fondi per riparare i gravi danni che ha causato il terremoto del novembre scorso e ieri appunto questa commissione ha girato un po' in tutti i luoghi dove si sono verificati i danni si è cominciato dalla residenza del comune dove un'ala è ancora inagibile e sono stati trovati dei problemi al tetto alle strutture si sa che la sede del comune è un edificio storico risale al XVII secolo era una volta un convento e quindi è stato costruito con le tecniche dell'ora le parti alte per esempio sono tutte in cannucciato quindi sono piuttosto fragili e quindi chi bisogna intervenire poi bisogna intervenire anche nella limitrofa nella vicina chiesa di San Francesco un bene storico che tutti ci ammirano e che purtroppo l'incuria e anche l'instabilità delle strutture una volta che in un vecchio terremoto in un sisma ancora più forte che si è verificato nel 1930 ha causato la demolizione del tetto che era stato allora lesionato e questo insomma ha procurato che le parti che soleggevano alla volta ora senza il legame siano poco stabili e poi la rocca malatestiana specialmente le mura che riguardano la ferrovia dove il passaggio dei treni con tutte le vibrazioni ha aumentato ancora di più l'instabilità delle stesse è una scossa sismica certo non ha fatto bene sono poi state visionate le scuole e il cimitero le chiese in modo particolare quelli di Rocco Sambaccio di Sant'Andrea in Villis delle Carmine anche qui i danni sono ingenti e poi il comune invita anche i privati a mantenere e a custodire bene tutti i documenti che riguardano le spese fatte per le riparazioni a causa del sisma delle loro abitazioni in attesa che magari dal governo giungano delle provvidenze e quindi anche i privati possono ottenere dei rimborsi per le spese vediamo ora un articolo che riguarda la raccolta dei rifiuti differenziata, spinta e smart si può evitare l'inceneritore è un invito che fanno le organizzazioni, le associazioni ambientaliste al comune di Fano si tratta dell'upus in fabola, dell'argonauta e di lega ambiente che rilanciano in una lettera aperta inviata al sindaco e alla giunta ai capigruppi consigliari e anche all'ASET rilanciano la proposta di cambiare la raccolta dei rifiuti piuttosto che fare come si fa adesso con una raccolta che è un po' mista tra porta a porta e i cassonetti che sono per strada invece dice di istituire un misto di raccolta dei rifiuti urbani che non è possibile raggiungere quote di raccolta differenziata scusate mi sono espresso male voglio dire che con l'attuale sistema di raccolta non è più possibile aumentare la raccolta differenziata siamo arrivati sul 75% ora la proposta di cambiare il sistema evidenziato dalle associazioni ambientaliste è quello di istituire dei cassonetti un po' come si sta facendo a San Costanzo con l'istituzione della tariffa puntuale ovvero ognuno ha una tessera e paga la bolletta dei rifiuti in base ai rifiuti che deposita, che produce e quindi ognuno sarà poi motivato anche a produrne di meno per pagare meno nella bolletta vediamo anche un articolo che riguarda che riguarda la Val Cesano ecco qua a San Costanzo l'affitto concordato vantaggi per i proprietari e gli inquilini è stata raggiunta un'intesa a San Costanzo tra proprietari appunto e inquilini e il comune l'assessore Ciani un invito per i nuovi residenti contratti di locazione a canone concordato questo è un istituto che è già stato adottato da altri comuni ci sono vantaggi sia per gli inquilini che pagano meno l'affitto sia per i proprietari di appartamento che possono avere dei bonus di carattere fiscale e quindi pagano meno tasse e poi sono anche un pochino più sicuri nella riscossione del canone d'affitto perché essendo un canone diciamo così moderato è più facile che l'inquilino possa sostenerlo a questo punto vediamo qualche notizia di Pesaro soprattutto per quanto riguarda il turismo eccolo qua Hotel Clipper e Imperial accendono 4 stelle sfida alla qualità vinta Gasparini e Signorini ma la capitale della cultura è una scatola vuota ebbene dicono noi ristrutturiamo gli alberghi lo standard di qualità cresce e otteniamo anche la quarta stella ma il comune non crea contenuti ed eventi spendibili nei pacchetti turistici ancora insomma non è ancora definito tutto il pacchetto di attrazioni che dovrebbe evidenziare il ruolo di Pesaro come capitale nazionale della cultura e già gli operatori i proprietari di alberghi ci sono fatti avanti hanno fatto delle spese hanno qualificato le loro strutture però insomma vorrebbero anche avere un contraltare vedere poi su cosa possono contare per incrementare la stagione turistica ecco perché in questo articolo si evidenzia la preoccupazione degli imprenditori la tradizione ritrova il carnevale anche a Pesaro dico anche a Pesaro perché abbiamo parlato molto molto in maniera molto voglio dire frequente del carnevale di Fano la tradizione ritrova il carnevale brilla la fantasia delle parrocchie dopo due anni senza carri e maschere domani in gara saranno 10 gruppi confermata anche la lotteria la città si prepara dunque al carnevale dei ragazzi che domani domenica torna per la sua 66esima edizione a partire dalle 15.30 ebbene sono organizzate e sfilate in strada il lancio di dolciumi anche qui è il discorso del Rob Aken accompagnato dalla signora Cagnera sono i due personaggi tipici della tradizione carnevalesca di Pesaro Rob Aken e la signora Cagnera subito prima di proclamare il gruppo in maschera più bello qui in questo articolo si evidenziano tutte le iniziative di questa bella manifestazione e ovviamente dobbiamo dire che contemporaneamente si svolge anche il carnevale a Fano l'ultima sfilata dei carri dalle 15.30 in poi ma il programma è veramente intenso perché questa sera abbiamo due veglioni il veglione della carnevalesca nel ristorante mediterraneo tra Fano e Pesaro e il veglione della gluppa il cui appuntamento viene richiamato proprio oggi dalla fotonotizia del Corriere Adriatico alle 20 nella sede del Sodalizio la combattente si terrà il veglione della gluppa organizzato dalla Proloco con premi alle migliori maschere e poi domani mattina sempre il carnevale dei bambini nel pomeriggio alla sfilata dei grandi carri in Viale Gramsci e quindi il getto dei dolciumi, la luminaria mascherate, tante tante occasioni per divertirsi quindi siamo ancora in carnevale il carnevale ormai è prossimo al suo termine martedì ultimo giorno a Fano si celebrerà il rito del rogo del pupo sopralluoghi all'interno di negozi così Demanio garantisce soluzioni in quanto riguarda il problema del cantiere dell'ex intendenza di finanza cantiere che aveva sollevato le preoccupazioni dei commercianti che operano all'intorno appunto dello stabile perché si temeva che i lavori danneggiassero poi l'attività commerciale e quindi si cerca di correre ai ripari dieci mesi di ponteggi lungo le imponenti facciate del complesso dell'ex intendenza di finanza e quanto dureranno i lavori per cercare di qualificare questo stabile siamo ormai in conclusione posso soltanto segnalarvi un'altra notizia di carattere culturale la testa del Battista un bellissimo quadro attribuito addirittura a Bellini oppure a Zoppo viene richiesto moltissimo in tutte le mostre testa del Battisti tour per mostre dopo il Quirinale tappa a Ferrara il celebre tondo assicurato per 30.000 euro tornerà a Pesaro nel mese di giugno e questo è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi augura un buon weekend noi ci risentiamo lunedì alle ore 7 per la rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci